E ora due altri giovani validissimi artisti che vengono da Milano, che io ho scoperto e che veramente non voglio lasciarmi scappare, Giuseppe Pepicelli e Giuseppe Carrer, chitarristi. Giuseppe cosa ci fate ascoltare? Allora, seguiremo il gran duo concertante di Napoléon Costa, che è stato un grande giovanezio dell'Ottocento. È costituito da tre movimenti, un allegro, una barcarola centrale e un finale. Bene, grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.